Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi voglio consigliare degli audiolibri da ascoltare. In particolare vi consiglierò degli audiolibri che potete trovare sia su Storytel che su Audible, che sono le principali piattaforme dove ascoltare appunto audiolibri. Parto col dire quando è il momento ideale per ascoltare degli audiolibri. Secondo me il momento ideale è sempre, in generale soprattutto ora che sta per arrivare l'estate si creeranno un sacco di occasioni ottimali per ascoltare il vostro audiolibro in completo relax. Ad esempio quando sarete sotto il sole, infatti secondo me è il giusto compromesso se si va in spiaggia o al lago o al fiume perché è super comodo da trasportare, infatti viene trasportato all'interno del proprio telefono e inoltre bastano semplicemente delle cuffiette da mettere alle orecchie e dopodiché non sarete infastiditi dal sole che vi dà fastidio, potrete chiudere gli occhi, rilassarvi e intanto ascoltarvi una bellissima storia. Qui ovviamente si sta parlando di momenti meravigliosi che non sono sempre possibili da vivere, infatti oltre ad ascoltarli in questi momenti di estremo relax è possibile ascoltarli mentre si sta facendo qualcosa. Quindi da una parte essere produttivi, ad esempio pulire casa, sistemare, svuotare lavatrici, lavastovigli, farsi la doccia, fare tutte quelle cose che si fanno insomma in casa ma anche andare a camminare, spostamenti vari, in macchina, insomma queste occasioni qua ed essere allo stesso tempo produttivi nel senso che si sta comunque ascoltando un libro. Quindi se siete quelle persone che odiano leggere perché odiano doversi fermare un attimo, gli audiolibri saranno la vostra salvezza. Detto questo non sempre è facile trovare l'audiolibro adatto alle proprie esigenze. Ne ho selezionati un po' per tutti i gusti e mentre vi li citerò vi dirò anche quali sono in generale le atmosfere che troverete in questi audiolibri in modo tale che possiate capire se fanno al caso vostro o no. Allora, inizierei con un libro che secondo me fa un po' al caso di tutti, ovvero il ritratto di Elsa Greer di Agatha Christie. In questo caso io prendo come esempio questo libro di Agatha Christie perché è uno degli unici che ho ascoltato, è l'unico che ho ascoltato in audiolibro, ma ce ne sono davvero tanti altri. Infatti mi sa che quest'estate me ne ciuccerò tantissimi altri perché sono bellissimi. Sono dei gialli che durano molto poco perché durano comunque sull'ordine delle 3, 4, 5 ore al massimo e che si possono ascoltare con molta attenzione in quanto ovviamente bisogna scoprire chi è il colpevole. Allora, ce ne sono davvero tanti perché io vi ho citato il ritratto di Elsa Greer, ma ce ne sono su Audible 65 e su Storytel 37 in italiano. Quindi avete proprio l'imbarazzo della scelta. Se vi piacciono i gialli alla Sherlock Holmes o comunque alla Agatha Christie, conoscete già il genere, secondo me è ottimo approfittare del fatto che siano in audiolibro e quindi ascoltarli. Una cosa che non ho detto ma che ci tengo a precisare è che entrambe le piattaforme offrono i primi 30 giorni di prova gratuita. Quindi potete comunque approfittare di questa offerta per provarle entrambe e capire anche qual è la migliore secondo voi. Alla fine del video vi dirò quale preferisco. Ma andiamo avanti. Il secondo che vi consiglio è un libro perfetto per l'estate ed è Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace. Ho davvero adorato questo libro. È un libro che viene letto con un tono incredibilmente ironico, come lo è appunto la scrittura di David Foster Wallace. Le vicende narrate si ispirano a fatti reali, anzi sono fatti reali. Infatti David Foster Wallace, l'autore, è stato invitato tramite una testata giornalistica a presenziare come giornalista al viaggio di una crociera. Lui quindi decide di andare e scrive in questo libro quello che è, a tutti gli effetti, la sua esperienza, ma la descrive in modo davvero sarcastico, ironico. Si prende in giro, prende in giro quello che accade nelle crociere, prende in giro chi decide di fare delle crociere e insomma si ride tantissimo. Cioè io penso che sia il libro con cui ho riso di più in tutta la mia vita e tra l'altro l'ho anche ascoltato. E chi lo legge, adesso non mi ricordo il nome, fa morire da ridere. È proprio il tono con cui io me l'ero immaginato letto. Quindi tutto combaccia perfettamente, anche in questo caso non mi sembra che sia un libro particolarmente lungo, comunque ve lo consiglio un sacco. Rimango sempre su una storia autobiografica e vi consiglio, volevo solo camminare di Daniela Collu. Vi ho già parlato di questo libro in altri video e l'ho ascoltato appunto su Storytel al tempo, però c'è la copia esatta anche su Audible. È letto proprio da Daniela Collu ed è la sua storia autobiografica in cui si narra il suo viaggio a Santiago dei Compostela. Ha percorso Daniela Collu appunto il cammino e in questo libro scritto successivamente racconta che cosa ha imparato, come è stato e insomma che cosa è accaduto. È un libro davvero dalla forte carica motivazionale e mi ha coinvolto tantissimo. Mi sono vista proprio camminare mentre leggevo, tant'è che l'ho ascoltato spesso proprio mentre facevo lunghe passeggiate e ho voglia ora di andare a fare il cammino di Santiago e lo farò assolutamente perché sono stata convinta da questo libro. Daniela Collu mi hai convinto, ci vado a fare il cammino e quindi anche questo ve lo consiglio. Passiamo ora a una storia d'amore barra non d'amore perché vi consiglio La Camera Azzurra di Simenon. Ho ascoltato questo audiolibro in due giorni perché ho iniziato a ascoltarlo ed ero praticamente dentro al 100% e volevo sapere che cosa sarebbe accaduto. Simenon è un autore francese famoso per aver scritto un sacco di gialli con il commissario Magrette, se non sbaglio. Non ho mai letto i gialli di Simenon, però questo ve lo dico perché in questo libro La Camera Azzurra si percepisce un po' quello che è il ritmo di un libro giallo. Anche se a tutti gli effetti non potremmo definirlo un libro giallo. Infatti c'è Tony, che è il nostro protagonista, che sta rispondendo a delle domande sulla sua storia d'amore con la sua amante. Sta rispondendo a queste domande e non si capisce a chi. Ascoltando il libro si aggiungeranno sempre più pezzi alla storia fino ad arrivare a quella che è la conclusione. È un libro davvero che gioca sul non detto ed è uno dei libri più belli che io abbia mai letto, mi verrebbe da dire, anche se l'ho ascoltato. Soprattutto perché è un libro che comunque ha un sacco di carica emotiva, romanticismo, cose, bello, bello, molto bello. E quindi vi consiglio anche questo. Passiamo poi a un grande classico della letteratura italiana e vi consiglio di leggere, anzi ascoltare, Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Vi consiglio di ascoltare proprio questo perché è quello che ho ascoltato io, ma in realtà potete trovare sia su Storytel che su Audible la trilogia dei nostri antenati al completo. Quindi Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente. Io ho ascoltato Il Visconte di Mezzato perché era l'unico che mi mancava della trilogia e sono stata molto contenta. È interessante, è interessante perché Italo Calvino ha un modo di scrivere che è tutto suo. Questi libri sono una grande metafora in cui c'è una morale molto molto forte che viene passata tramite quella che è un po' la struttura anche di una fiaba, di una favola. In cui ci sono dei personaggi chiaramente surreali, in cui ci sono delle vicende un po' fuori dal normale. Il ritmo in generale, lo stile ricorda appunto una storia quasi per bambini, se non che ci sono degli elementi che appunto sono pensati proprio per gli adulti. Italo Calvino è Italo Calvino, io non saprei cosa dire di più perché i suoi libri sono tutti, secondo me, da scoprire. Anche perché la cosa non scontata è che lui ha innanzitutto delle grandi idee, perché ha delle idee davvero molto 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 particolari e incisive. Ma oltre a queste idee incredibili attua una realizzazione che non è scontata e banale. Infatti non si ferma alla bella idea, ma la realizza secondo me sempre in modo eccelso. Supera le aspettative e anche Il Visconte di Mezzato, devo dire, ha superato le mie aspettative. Passiamo poi a Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Questo libro è il libro tratto da una serie di discorsi, di convegni, che l'autrice ha tenuto in merito alla questione femminile nel mondo della scrittura. Praticamente è stata chiamata a questi convegni per parlare delle donne in letteratura. E lei inizialmente appunto avrebbe dovuto parlare di come le donne scrivono, per poi rendersi conto di dover rispondere più alla domanda perché le donne non scrivono. Infatti Virginia Woolf appunto ha vissuto un po' di tempo fa e si è resa conto che non erano molte le donne che stavano scrivendo, che scrivevano. E se scrivevano, scrivevano comunque con dei problemi. La tesi del libro è che una donna per scrivere ha bisogno di una stanza tutta per sé ed un compenso, un sussidio diciamo, dei soldi per vivere. E' una tesi molto interessante, secondo me ancora molto attuale. Il libro in generale è molto attuale e vi consiglio di ascoltarlo in audiolibro perché secondo me è una di quelle cose che non ci si pente di aver ascoltato. Passiamo poi a un altro libro e si tratta dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Questo libro è famosissimo, l'hanno letto in tantissime persone e se vi manca da leggere io vi dico ascoltatelo. Perché è una raccolta di storie, anche in questo caso reali e accadute veramente, di salute mentale. Infatti l'autore è un psicologo, mi sembra, un psichiatra. Sì esatto, è stato anche un professore di neurologia e psichiatria, ho controllato ora. E ha raccolto in questo libro delle storie interessanti di persone affette da malattie mentali. Malattie mentali di ogni genere. La cosa interessante è che lui tratta queste malattie con grande e forti interesse e fa appassionare molto alle storie personali di queste persone, appunto. e della stessa malattia potrebbe essere anche che porti, succede anche che porti più casi in modo tale che sia anche, non solo la malattia in sé ad essere indagata, ma anche come la persona si approccia a questa. Le malattie sono tra le più svariate, tra la prassia, l'agnosia, cose di questo tipo che ora io non vi spiego perché dovete ascoltare il libro. E secondo me è molto molto bello come lui si approccia a queste. È sempre affascinante, secondo me, studiare la mente umana e capire come funziona, quali sono i collegamenti che la tengono normale e che cosa significa invece anormalità nel funzionamento della mente. La cosa bella, oltre a quello che ho già detto, è che Oliver Sacks non si approccia a queste cose come anormalità in senso negativo, ma molto spesso si approccia a queste anormalità in senso positivo. Non vuole solo cercare che cosa queste persone hanno in meno rispetto al normale funzionamento della mente, ma che cosa queste persone hanno anche in più. E questa cosa, secondo me, è super. Il libro mi è piaciuto ovviamente tanto e quindi ve lo consiglio. Ma proseguiamo con un grande classico ed è La Signora delle Camele di Alexandre Dumas. Questo libro l'ho ascoltato perché ero molto interessata. Tra l'altro ci tengo a dire che, l'ho scoperto anch'io dopo averlo iniziato, Alexandre Dumas non è in realtà lo stesso autore che ha scritto I tre moschettieri, poi che cosa ha scritto? Altri libri famosi, ma è il figlio. Quindi non è la stessa persona. Adesso cerco che cosa ha scritto Alexandre Dumas perché stavo per dire Viaggio al centro della Terra ma secondo me non l'ha scritto lui. Sì, sono andata a cercarmi cosa ha scritto Alexandre Dumas perché stavo facendo un po' di confusione. Comunque praticamente il padre ha scritto I tre moschettieri, Il conte di Monte Cristo e tanti altri libri molto famosi, mentre il figlio praticamente ha scritto solo questo che è diventato famoso, ovvero La Signora delle Camele. È un libro molto interessante, soprattutto se vi piace la società dell'Ottocento, vi piacciono i grandi romanzi russi e i grandi romanzi francesi, tipo Madame Bovary, cose di questo tipo, perché siamo sempre sullo stesso filone. In questo caso mi è raccontata la storia di questa signora, la Signora delle Camelie, anche chiamata Margherita, che è una donna che vive di amanti. Infatti lei praticamente non si è sposata e tiene compagnia a tutta una serie di signori. La storia viene raccontata dopo la sua morte e quindi noi sappiamo già dall'inizio che lei appunto è morta, è morta giovane. E da lì praticamente tutta una serie di personaggi si ritrovano e si inizia a raccontare la storia di questa Margherita. È un libro classico, quindi si porta dietro tutte quelle cose, sia positive e negative, che si portano dietro i libri classici. Negative nel senso che ovviamente lascia un po' il tempo che trova, non è neanche un classico così letto e così conosciuto e dopo averlo ascoltato ho capito perché. Perché comunque è un classico che cerca sempre di moralizzare molto su, ad esempio, la vita delle donne. Si cerca sempre di giustificare il motivo per cui Margherita fa quello che fa, ad esempio. Però è comunque un libro sentimentalmente anche molto potente e a me è piaciuto, quindi io ve lo consiglio. Un altro libro che vi consiglio di ascoltare è Il profeta di Kali Gibran. Questo è un libro che vi consiglio di ascoltare soprattutto per come è strutturato l'ascolto. Infatti è un libro che viene letto, ma di sottofondo è costantemente presente quello che è un motivetto, una canzoncina, io non so come dire. Tipo, c'è una musica di sottofondo molto rilassante. Sembra quasi un libro dalla forte carica zen. Quasi un libro da ascoltare la mattina quando si fa yoga. E Il profeta di Kali Gibran, tra l'altro, parla praticamente di tutti quelli che sono degli insegnamenti morali ed etici che questo profeta dà a una comunità. Questa comunità gli pone delle domande, queste persone gli pongono delle domande, ad esempio, che cosa vuol dire amare, che cosa vuol dire lavoro, e lui risponde, e risponde dando quelli che sono appunto dei consigli altamente morali, altamente quasi religiosi, spirituali. È un libro che può piacere se vi piacciono le cose di questo tipo, se cercate dei libri motivazionali, se vi piacciono le cose un po' orientaleggianti, vi piacciono gli insegnamenti di vita. Al contrario, se odiate queste cose, questo libro non fa assolutamente per voi. La cosa bella è che ci sono anche dei dong all'interno del libro, che sono bellissimi, e si alternano due voci, maschile e femminile. Questo rende l'ascolto ancora più coinvolgente. Tra l'altro, io non l'ho detto, ma spesso e volentieri, ascoltando degli audiolibri, le voci sono diverse. Infatti, in quasi tutti i libri che vi ho citato, ci sono sempre una voce maschile e una voce femminile, che magari si alternano alcune parti, in modo tale che ci sia sempre quasi un cambio di ritmo, che tiene chi ascolta attaccato appunto alla storia. Ultimo, ma non per ultimo, il libro che vi consiglio è Pastorale americana di Philip Roth. Questo è un grande romanzo americano, Philip Roth è un grande autore americano, contemporaneo, e io dovevo per forza consigliarvi qualcosa, insomma, di suo. In questo caso, il libro non l'ho completamente ascoltato, anzi, ho ascoltato solo la prima parte perché l'avevo già letto, ma mi sento di consigliarvelo comunque, perché secondo me è molto piacevole la voce di chi legge questo libro. In questo romanzo potrete trovare, ed è difficilissimo dire potrete trovare, l'America, tantissima America, una storia di sogni americani riusciti e non riusciti, di che cosa significa vivere appunto in America, e l'ho già detto, ed è un libro tra l'altro per il quale ho fatto anche un reading vlog, quindi vi rimando anche a quello se avete già letto questo libro, o se lo ascolterete, o lo leggerete, insomma, e volete sapere qual è la mia opinione in merito, perché lì appunto in quel video ne parlo a oltranza, quindi vi rimando a quello. Avevo chiuso tutto perché pensavo di aver terminato il video, ma mi sono dimenticata che vi dovevo dire prima se preferisco Audible o Storytel. Allora, parto dal presupposto che entrambe le piattaforme offrono una prova gratuita di 30 giorni, quindi si possono provare entrambe le piattaforme e capire da soli, in poche parole, quale si preferisce. Io personalmente non ho visto tante tante differenze, le funzionalità sono quasi le stesse, però tendo a preferire Audible. Innanzitutto è possibile impostare un timer se si vuole andare a dormire, in modo tale che il libro vada avanti per tot tempo, quindi ad esempio 10 minuti, un quarto d'ora, due ore, e non mi sembra che si possa fare su Storytel. Ora non posso controllare perché non avendo l'abbonamento attivo non posso controllare, però non l'ho mai fatto comunque con Storytel, mentre con Audible è proprio lì tra i simbolini principali quando si ascolta un libro. Inoltre, secondo me, è possibile velocizzare la lettura con molte più possibilità. Faccio un esempio, c'è la possibilità di velocizzarla 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, mentre su Storytel non mi ricordo se c'è questa funzionalità, ma se c'è mi sembra che siano meno i gradi a cui si può velocizzare. Perché trovo che sia utile velocizzare la lettura? Perché a volte ci sono certi audiolibri che sono letti molto lentamente e non rispettano quello che è il modo in cui io personalmente li leggerei. Quindi, soprattutto se sto ascoltando l'audiolibro e intanto leggendo, perché a volte faccio anche questa doppia lettura, diciamo, quindi ascolto il libro mentre leggo perché lo trovo più coinvolgente, se il lettore va troppo piano io vado avanti già a leggere. Mentre per me è meglio trovare il giusto compromesso, la giusta velocità. E ovviamente più sono le possibilità più riesco a trovare il mio ritmo. Inoltre, su Audible, secondo me, ci sono molti più libri. Lo dico perché, appunto, per girare questo video e in generale per girare anche i prossimi che ho in mente di fare, ho fatto tantissime ricerche di titoli che ero interessata ad ascoltare, sia che ho già in libreria, sia che voglio comprare o comunque magari non voglio comprare ma vorrei capire come sono e Audible ha un'offerta molto più ampia. Non tantissimo più ampia, comunque in generale alcuni libri non si trovano su Audible e si trovano su Storytel, quindi ci sono proprio anche delle differenze di catalogo, però diciamo che faccio l'esempio Agatha Christie, su Storytel ce ne sono la metà di quelli che ci sono su Audible. E se confronto in questo momento la libreria che ho creato su Audible di libri che voglio ascoltare e quella che ho creato su Storytel ce ne sono molti di più su Audible. Quindi per adesso continuo l'abbonamento con quella piattaforma là e poi farò un po' uno switch. In generale comunque costano entrambe allo stesso modo, quindi mi sembra 9,99€ al mese o qualcosa del genere. Quindi, insomma, si può anche fare un cambio tra le due quando si vuole. Quindi, questo è tutto. Vi mando la me del passato che vi saluta. Detto ciò, i miei consigli per oggi sono terminati. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Tra l'altro, fatemi sapere se ascolterete qualcuno di questi audiolibri. Io in questo periodo sto amando gli audiolibri e per questa ragione vi chiedo anche di consigliarmi qua sotto nei commenti quelli che sono piaciuti a voi. Quindi, sia su Storytel che su Audible, fatemi sapere dove trovare il libro e che libro avete ascoltato. Grazie mille di avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! È appunto un romanzo in cui potete... È un romanzo in cui potete... Potrete... È un romanzo in cui potete... Potrete... È un romanzo in cui potrete... Tro... Tro... Ma che cazzo?